Musica Musica Scusami, ma così alto Aiuta a fare l'arciere o no? No, non aiuta Perché ho una lunga troppo lunga E ha problemi di frecce Davvero? È il primo sport che ha svantaggio Che cosa accade adesso? Adesso abbiamo tirato tutte le tre frecce dello scontro Andiamo al paglione a verificare il punteggio A verificare chi ottiene il punto del set E siccome siamo già alla quarta volè Probabilmente avremo dei verdetti Del vincitore e del perdente Ad esempio in questo caso Andiamo a vedere il punteggio delle allieve femminili Che si stanno giocando l'accesso alla finale per l'oro E andiamo a vedere chi ha ottenuto la vittoria Ce l'abbiamo un verdetto ragazze? Sì, sì 6 e 2 per Fuschini Fuschini passa la finale per l'oro Col punteggio di 6 e 2 Masini andrà a tirare la finale per il bronzo